Buon viaggio, ben trovati ancora dalla redazione di Firenze Smart e da Mauro Ciutini. Segnalato nevischio sull'A1, attenzione sul bivio A1 variante di valico ed aglio. Si consiglia il transito sulla viabilità di montagna ed alta collina solo se necessario e con veicoli dotati di catene da neve o pneumatici invernali. Lavori sulla Firenze Pisa-Livorno, personale su strada Ginestra-Fiorentina provenendo da Firenze. Autolinea e Toscane informa che le improvvise nevicate hanno interessato e stanno interessando alcune zone della Toscana. Il trasporto pubblico locale sulla montagna Pistoiese, la linea e la 56 Por, alcune corse non sono potute transitare. Lavori a Firenze in via Pisana da domani, lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica, lavori fino al 27 gennaio in vigore un divieto di transito tra via Puligo e via Cavalori. È tutto grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.